Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi, giovedì 14 dicembre. La politica in primo piano con tre notizie. La prima riguarda il patto di stabilità con l'Italia che potrebbe addirittura porre il veto in Europa. La seconda riguarda la manovra di bilancio con le nuove norme in tema di casa e di IMU. La terza lo stop imposto dalla Corte Costituzionale albanese all'accordo tra Italia e Albania sulla gestione dei centri di accoglienza per migranti. E poi le notizie di cronaca nazionale ed internazionale. Ma andiamo subito sul Corriere della Sera che dedica una falsa apertura allo storico accordo per COP28 sul clima. Addio ai combustibili fossili entro il 2050. Leggiamo Sara Gandolfi. Una svolta storica arrivata nell'anno più caldo di sempre e in una petromonarchia come gli Emirati Arabi. Ieri a Dubai è stata trovata l'intesa su un tema che da quasi trent'anni era l'ovvietà inespressa delle COP, le conferenze delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Per fermare il riscaldamento globale bisogna smettere di bruciare carbone, petrolio e gas in modo da raggiungere le emissioni zero entro il 2050. Per la prima volta i combustibili fossili sono menzionati in un documento finale. Il testo è stato approvato all'unanimità. E poi ci sono le notizie dal fronte sia in Ucraina che in Israele. Partiamo dall'Ucraina. Sono 315 mila i caduti di Putin. La guerra contro l'Ucraina è già costata ai russi la perdita di 315 mila militari su un contingente iniziale di 360 mila, secondo un report americano, perdite che però non peserebbero sulla strategia di Putin. Per quanto riguarda invece Israele, Netanyahu non si ferma, avanti con i raid. A Gaza sono morti 9 soldati. Continua l'offensiva israeliana nella striscia di Gaza, ma 9 soldati sono stati uccisi. Le piogge allagano le tende dei palestinesi sfollati. Il premier Netanyahu lancia la campagna elettorale, ma è dietro a Gantz nei sondaggi. Ma la notizia principale è quella dei migranti. Stop dall'Albania. L'alta corte albanese sospende l'intesa con l'Italia. La presidente. Un atto tecnico. Sorpresi. Rama e Meloni. Intanto, patto di stabilità. La premier non esclude il veto. e sul MES scontro con Giuseppe Conte. Leggiamo il richiamo. La corte costituzionale albanese ha annunciato la sospensione delle procedure parlamentari per l'approvazione dell'accordo Rama-Meloni sui migranti. Giorgia Meloni non esclude intanto il veto sul patto di stabilità e sul MES la premier attacca Conte. A centropagina vedete questa fotografia. È Alex Cottoia, 22 anni, con la mamma Maria, 55. Fotografati ieri nell'aula della corte d'assise d'appello di Torino. Uccise il padre violento, condannato a sei anni. Il delitto in difesa della madre. Cancellata l'assoluzione in primo grado. Una vicenda che farà discutere sicuramente. Così come fa discutere l'omicidio a Milano di ieri. L'erede Rancilio, trovata morta nella sua casa. Fermato il figlio. Delitto nel cuore di Milano. Fiorenza Rancilio, sorella dell'architetto 26enne Agusto, sequestrato dall'Andrangheta a Cesano Boscono nel milanese la mattina del 2 ottobre del 1978, è mai tornato, è stata trovata morta in casa. Fermato il figlio, portato poi in ospedale perché aveva assunto una dose forte di psicofarmaci. E poi un'altra notizia. Airbnb fa pace con il fisco per 576 milioni di euro tra sanzioni e arretrati. E passiamo alla Repubblica, il quotidiano che titola sull'accordo per il clima. C'è l'addio al petrolio ma solo nel 2050. Si chiude la COP28 a Dubai. Nel giorno conclusivo di COP28 ci si aspettava una plenaria drammatica destinata a trascinarsi per ore con veti incrociati e posizioni inconciliabili. Invece il presidente del vertice climatico di Dubai, Sultan Al-Jaber, ha letto una breve formula, un nome in codice. Il primo bilancio globale delle politiche climatiche previsto dagli accordi di Parigi è approvato. C'è l'impegno dei governi del pianeta ad abbandonare i fossili entro il 2050 e la transizione partirà da subito. E intanto il Consiglio europeo, l'Unione europea, Meloni, minaccia il veto. La Premier non esclude di bloccare l'intesa sul patto di stabilità. L'Italia rischia una manovra correttiva in primavera. Intanto è scontro con Conte sulla ratifica del MES, che è appunto il patto di stabilità tra gli stati, il patto per salvare gli stati del 2021. Ma il fax esibito in aula smentisce la versione di Palazzo Chigi. Intanto ai giudici di Tirana stop al protocollo firmato con Roma sui migranti. Anche qui leggiamo. L'Italia non intende firmare un patto di stabilità che non può mantenere. Lo ha spiegato Giorgia Meloni in Senato. Non escludo nessuna scelta, quindi minaccia il veto mentre studia una manovra correttiva in primavera. Ed è scontro con Conte sulla ratifica del MES nel 2021. Ma il fax che la Premier mostra smentisce la sua versione. Intanto la Corte Costituzionale albanese blocca l'accordo con l'Italia. Poi due notizie di cronaca. Suicida nella Senna accusò de Bardier di molestie sul set. E poi processo Grillo, al figlio di Grillo, domande sessiste alla vittima. Passiamo alla stampa. Il quotidiano di Torino che titola Patto europeo strappo di Meloni pronti al veto. Oggi il Consiglio europeo. No tedesco ha più fondi per l'accoglienza e imprese. L'Ucraina, Alt di Orban ha i nuovi aiuti. E poi ci sono gli approfondimenti su economia e migranti. Economia. Manovra sorpresa a Imu si rischia la terza rata. Mentre in Albania stop dei giudici no all'intesa con Roma. Ma l'apertura del giornale dedicata su una vicenda di cronaca. Indagine sul chirurgo del Papa. Il professor Altieri sotto inchiesta per falso risultava presente in sala operatoria ma faceva visite private. Si muovono i nas e la procura di Roma sequestrate decine di cartelle di pazienti al policlinico Gemelli. E poi vedete che in questa fotografia con Depardier e la donna che si è tolta la vita. Gli incubi di Manuel è il titolo principale. E allora passiamo all'avvenire il giornale dei Vescovi italiani che parlano dell'era della transizione. Accordo storico alla COP28 per l'uscita graduale in modo giusto, ordinato ed equo dall'utilizzo di fonti fossili. Si unanime di 197 paesi in Europa. Spinta ad accelerare l'azione per azzerare le emissioni nette entro il 2050. I dubbi e la rabbia dell'alleanza dei piccoli stati insulari che rischiano di venire sommersi. Pensate che il Mediterraneo salirà di 20 centimetri. Lucia Capuzzi inviata a Dubai scrive «Dopo 31 anni i combustibili fossili non sono più tabù nella diplomazia climatica. Per la prima volta la COP si conclude con un documento che cita direttamente e chiede alle parti di transitare verso l'abbandono. Una parafrasi di compromesso per aggirare l'espressione eliminazione considerata dalla Reabbia Saudita alla guida delle petropotenze una linea rossa invalicabile. Il mandato politico per lo stop però è comunque forte. Oltretutto il testo indica un orizzonte temporale stringente per l'avvio della riconversione l'attuale decennio. Un risultato fino all'ultimo inatteso anche per l'inedita mobilitazione dell'industria degli idrocarburi contro l'addio. A renderlo ancora più straordinario il fatto che il messaggio arrivi da Dubai negli Emirati uno dei dieci grandi produttori di petrolio. E poi c'è una intervista alla televisione M+. Francesco sto bene ma la mia tomba sarà a Santa Maria Maggiore. Una notizia che ritroveremo poi anche su altri giornali con maggiore risalto. Ma intanto vedete Albania Italia sospesa l'intesa difficile restare eppure avere asilo. Un abitante della terra su 71 spinto ad emigrare. E poi c'è una vicenda di economia. Accordo europeo sul lavoro con le piattaforme. Il Papa basta precari. L'Istat più 481 mila occupati. E allora leggiamo questo richiamo. Nel giorno in cui l'Istat diffonde i dati del terzo trimestre con nuovi record di occupati 23,6 milioni e un tasso di disoccupazione stabile al 7,6 per cento all'avvento Labordi promosso da Acli per generare buona occupazione si riflette sulla sfida per un lavoro dignitoso. Messaggio di Papa Francesco ai partecipanti all'appuntamento. Aiutiamo i giovani ad uscire dalle sabbie mobili del lavoro precario. Il Pontefice si è soffermato anche sulla scandalosa e preoccupante insicurezza dei posti di lavoro che portano ancora troppe vittime. Nel corso della giornata decine di giovani hanno potuto vivere l'esperienza di un workshop formativi e simulazioni di colloqui di lavoro. A proposito di lotta al precariato e la stabilità lavorativa, le istituzioni europee trovano l'accordo sulle nuove norme per la tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali come i rider o gli autisti di Uber. Il testo punta a garantire la corretta classificazione dello stato occupazionale di circa 5,5 milioni di persone in Europa e a contrastarne gli abusi. E passiamo al Sole 24 ore, il giornale di Confindustria che si occupa dei temi di economia. L'appello del Papa, subito una tregua umanitaria, pressing USA su Israele, è una falsa apertura. Ma il titolo principale, IMU, mutui affitti, le novità per la casa, si tratta della legge di bilancio. E allora leggiamo. Pacchetto di misure per la casa negli emendamenti dei relatori della legge di bilancio. Sui mutui la garanzia pubblica del fondo Prima Casa è estesa nel 2024 per le famiglie con almeno tre figli e redditi medio-bassi. Per gli affitti brevi cedo la resecca al 21% solo per il primo immobile sanatoria per i 211 comuni in ritardo con le delibere per l'aumento dell'aliquota IMU. Minisaldo il 29 febbraio. Poi vedete questa fotografia a centropagina. Milano, Scalo Farini all'accordata Ines, Prelios, Unicredit e la banca cambierà sede. E poi la COP, primo storico accordo per l'uscita dalle fonti fossili. Ce ne siamo occupati. E passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, giornale di Puglia e Basilicata. Questa è l'edizione nazionale edilizia sostenibile. Ecco il modello Puglia. La nuova legge sulle ristrutturazioni schiude tante opportunità. E poi l'ex ILVA ad aprile l'appello di ambiente spenduto. Il maxiprocesso che vide protagonisti tutti i vertici della precedente gestione, dai Riva a quelli che arrivarono subito dopo sulla gestione appunto dell'ex ILVA, il siderurgico, oggi acciaierie d'Italia. E poi la strage dei treni, imprevedibile, dicono i giudici a Trani, le motivazioni della sentenza sullo scontro del 2016. Errore dei ferrovieri. Ricordiamo che in questo incidente morirono 23 persone e ci furono 51 feriti. I tre titoli della Gazzetta. Taranto, Melucci, il sindaco, perde pezzi. Resa dei conti nel centro-sinistra sono ore decisive per la giunta comunale. Cioè si paventano possibili elezioni. Capitale italiana della cultura 26 vanno in finale Lucera e Maratea, che sono due città, una pugliese e una lucana. E poi la CNN e il mito nicolaiano. Bari è la città di Babbo Natale. E passiamo all'altro giornale di Puglia Basilicata, l'edicola del Sud. Questa è l'edizione di Bari. Due regioni rivolta contro le scorie nucleari. Nel Italia, tra cui 15 per la Puglia e Basilicata, le aree ritenute idonee ad ospitare il costruendo deposito nazionale di rifiuti nucleari. La prospettiva agita agli amministratori locali pronti a mobilitarsi i sindaci di Altamura, Gravina e dintorni, oltre le province di Potenza di Matera e le due regioni interessate. E poi, vedete a centro pagina, la svolta per l'ospedale abbandonato da 15 anni, uffici pubblici nei padiglioni del Bonomo. Ok, dal Consiglio Comunale, più vicino il rilancio della struttura che riguarda Bari, naturalmente. E poi passiamo al resto del Carlino, giornale del gruppo quotidiano nazionale. Questa è l'edizione nazionale che titola Meloni Conte, scontro finale sul MES. La Premier attacca il leader del Movimento 5 Stelle. Con un fax nottetempo avete firmato il trattato e non esclude il veto sul patto di stabilità. Superbonus, intervista Gasparri di Forza Italia. Non lasciamo imprese e famiglie nel limbo. Migranti, Unione Europea con l'Italia, ma la corte albanese dice no. A centro pagina questa vicenda. Condannato Alex, una vita rubata. Uccise il padre per salvare la madre, sei anni in appello. In primo grado era stato assolto, ma Alex Cottoia, 22 anni, ieri a Torino, è stato condannato a sei anni in appello. Non fu legittima difesa, ma omicidio volontario. La madre si dispera. Mio figlio mi ha difeso, non è un assassino. Nel 2020 uccise a Collegno, con 34 coltellate, il padre violento, Giuseppe Pompa, dopo l'ennesima sfuriata contro la madre. Durante il processo il ragazzo aveva scritto un messaggio sul senso della sua vita. E passiamo alla provincia di Sondrio, il primo dei giornali del gruppo La Provincia. Questo è appunto Sondrio, doppia falsa apertura, tangenziale in ritardo, il sindaco Amarezza. Incendio di colico dietro front del comune. Ma il titolo principale, due anni alla maga di Teglio, confiscato il suo tesoro, l'operazione della Guardia di Finanza nel 2019. Adesso la sentenza di primo grado. Leggiamo di che si tratta. Condanna in primo grado a due anni di reclusione con la confisca del denaro e preziosi sequestrati. E' questa la sentenza nei confronti di Paola Fendoni, 58 anni, di Teglio, assurda agli onori delle cronache nel luglio del 2019, quale protagonista dell'operazione Maga Circe, messa a segno dai militari della Guardia di Finanza. Alla donna era stato contestato l'esercizio delle professioni di psicologa, di ipnoterapista, senza averne alcun titolo. Oltre all'attività di Maga, cartomante, che secondo l'accusa sarebbe stata svolta soprattutto attraverso consulti telefonici. Una vicenda che ha dell'incredibile. E poi la provincia di Lecco. Il comune chiude Seval. Caos, poi il dietrofront. Rogo di colico il rischio cassa per 130 dipendenti scongiurato soltanto nella serata di ieri. Un'ordinanza urgente di sospensione di qualsiasi attività, potenzialmente rischio incendio, firmata dal sindaco di colico Monica Gilardi, nei confronti della Seval, come conseguenza del rogo di domenica, quando i fumi provenienti dall'incendio si erano propagati per mezza provincia. Un provvedimento che ieri pomeriggio aveva indotto i titolari dell'azienda, in via cautelare, a decidere di fermare tutte le lavorazioni. La conseguenza sarebbe stata la cassa integrazione per 130 dipendenti. L'ultimo dei giornali della provincia è quello che riguarda Como. Treni, non ne possiamo più, ancora disagi e oggi sciopero. Ritardi e cancellazioni in dicembre, problemi per più di 300 corse. Treni, altra giornata da dimenticare con numerose corse saltate e oggi e domani, attenzione allo sciopero. Ieri all'alba i pendolari sono stati informati dall'app di Trenord, che a causa di un non specificato atto vandalico alla linea elettrica all'altezza di Caldo Rago, si stava sommando ritardi gravi anche sui treni in partenza già da prima delle 6. Secondo il sito Treni Pendolari del Comitato dei Viaggiatori Lombardi sulla direttrice S11 tra Milano e Chiasso, da inizio mese il 15% dei treni è stato cancellato, sono 65 corse in meno. E passiamo all'Eco di Bergamo, Fondi Fai per tre luoghi del cuore bergamaschi, l'oratorio della Vergine Assunta di Calvenzano. Ma il titolo principale, una casa degli adolescenti contro il disagio psichico, nelle cucine dell'ex HONP di Borgo Palazzo, grazie ad un anonimo benefattore. Leggiamo. Le storiche cucine del vecchio ospedale psichiatrico in Borgo Palazzo, ospitate in un padiglione oggi in disuso, diventeranno la casa degli adolescenti per curare il disagio psichico. Il progetto è stato illustrato da Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell'AST Papa Giovanni, nell'ambito di un vasto intervento di ristrutturazione avviato nei padiglioni dell'ex manicomio, oggi di proprietà dell'ospedale di Bergamo, dove hanno sede la Casa di Comunità e Servizi Territoriali. E passiamo al Messaggero, il giornale di Roma, il giornale della Capitale, dai mutui agevolati all'Imu, come cambia la manovra? Garanzia dello Stato sulle rate della casa per le famiglie numerose, più tempo ai comuni per aumentare le aliquote. A Roma intanto niente rincari. E poi altre due vicende di cui ci siamo occupati. I migranti, sospeso l'accordo con Tirana, la corte albanese deciderà entro 90 giorni. Palazzo Chigi, per noi non cambia nulla. Giustizia, la frase shock di Davigo, imputato suicida? Perdi una fonte, l'ex PM di Mani Pulite al podcast di Fedez. Leggiamo, nell'ultima puntata di Muschio Selvaggio, Fedez, intervista all'ex PM del pool di Mani Pulite per Camillo Davigo su Tangentopoli e il tema del suicidio nelle carceri di persone sottoposte a indagine. A centropagina la fotografia della Lazio sconfitta a Madrid. Lazio mai in partita vince Simeone, che è l'allenatore dell'Atletico Madrid. 2-0 Sarri e company secondi nel girone di Champions. Il Milan ha vinto, lo ricordiamo, ma è stato escluso dalla Champions e giocherà nell'Europa League. Poi archiviare via Poma la resa della procura sul delitto Cesaroni. Dopo 33 anni nessuna pista percorribile senza sbocchi. l'indagine sull'alibi di Caracciolo. Il PM chiede l'archivazione della nuova inchiesa sul delitto di via Poma. L'ultima indagine, l'ennesima dopo 33 anni, sulla morte di Simonetta Cesaroni, che riguardava l'alibi dell'avvocato Caracciolo, non ha portato ad alcun risultato. La Procura di Roma ha chiesto di archiviare il fascicolo aperto nel marzo del 2022 dopo l'esposto presentato dai familiari della ragazza uccisa con 29 coltellate. Passiamo al mattino, il giornale di Napoli e della Campania. Manovra sì ai mutui agevolati. Emendamento in favore delle famiglie numerose. Meloni al Senato. Sul patto non escludo il veto. No della Sicilia, l'utilizzo dei suoi fondi per realizzare il ponte sullo stretto di Messina. Ma Salvini insiste, l'opera si farà come previsto. Poi c'è un'indagine. Redditi. Le donne pagate il 5% in meno rispetto agli uomini. La ricerca, forti disparità soprattutto per i vertici. A centro pagina vedete la bandiera e il titolo dedicato alla scomparsa di Totonno Iuliano. Aveva 80 anni, capitano e manager. Fu lui ad acquistare Kroll e soprattutto Diego Armando Maradona. E poi aggredita in classe coltellate grave una diciottenne a Caserta. La lite durante un corso serale al Buonarroti. Fermata da una compagna di 17 anni. Si parla di tentato omicidio. E chiudiamo con un'altra voce dell'Italia. Il giornale che si occupa della Calabria e più in generale del Mezzogiorno. Il direttore Roberto Napoletano nel suo consueto editoriale di prima pagina titola La pazienza del costruttore. Giorgia Meloni parli al Paese senza la retorica di partito e lanci la fase 2 con i meriti del PNRR e la consapevolezza che il lavoro in Europa richiede tempo e connessioni. E' il tono che fa la musica. La gente è con lei perché non è più quella di prima. Non aiuta autorivendicare il prestigio internazionale dell'Italia perché è vero che sul piano nazionale di ripresa e resilienza siamo i primi in Europa e ci davano per spacciati che l'intuizione sull'Africa si intreccia con quella visione. Ma serve un'ottica europea e siamo in corso d'opera. Come sul nuovo patto bisogna costruire le basi per ottenere risultati di lungo termine ed è sbagliato mettere Orban sullo stesso piano di Schulz perché il primo rompe l'unità euro-atlantica che è una cosa molto diversa dal dissenso sacrosanto rispetto allo strabismo tedesco su finanza pubblica e investimenti. E poi accordo COP28 via i fossili entro il 2050 ma senza nucleare. Non ce la faremo storico. Accordo a Dubai sulla decarbonizzazione. Leggiamo questo richiamo. La prima COP, Conference of Parties, conferenza delle parti, ovvero di tutti i paesi che si tenne al Berlino nel 1995 ma venivano dal vertice planetario di Rio de Janeiro del 1992 dove si posero i primi mattoni dell'intera politica dell'ONU sui cambiamenti climatici. Sono passati 31 anni da allora ma le emissioni di CO2 di origine antropica non accennano a diminuire perché alternative alle fossili non ce ne sono. Quello che fa l'accordo invece è ribadire che la loro riduzione è possibile. E poi l'ultimo titolo strappo della Sicilia non pagheremo noi il ponte Schifani la nostra compartecipazione non è mai stata condivisa. Ed era questo l'ultimo titolo del quale ci siamo occupati nel corso di questa rassegna stampa che torna domani stessa ora stessa rete e per il momento non andate via. Restate con i nostri programmi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.